Il cappuccino più famoso di Roma Del bar del cappuccino t'ho già parlato perché siamo andati a provare il pastrami ma non t'ho raccontato di Luigi, il proprietario più dei 50 anni a fa cappuccini ma quando a Roma i cappuccini non si facevano con questi disegni allegri che oggi te propone Luigi infatti è stato uno dei primi a farli a Roma tanto che viene invitato in televisione da Raffaella Carrà e in Giappone e in giro per il mondo a presentare la sua arte ha cominciato a fare cappuccini quando aveva 16 anni al bar Alemagna a Via del Corso i disegni sono sempre tutti fatti a mano sempre da Luigi che lavora ogni giorno al bar del cappuccino insieme ai figli Adriano e Veronica e poi Luigi è un signore tanto gentile è proprio buono, salutamelo questo è un pezzo di storia di Roma quindi pace e poi tim